È un evento che noi abbiamo voluto fortemente per far ripartire Cantiano, per dare un segno anche di crederci nel futuro, nelle nostre ricchezze, nelle nostre tipicità, in quello che ci caratterizza. Saranno per la prima volta due giornate uguali, ci teniamo molto a sottolinearlo perché tradizionalmente l'appuntamento di ottobre vedeva il sabato più dedicato agli allevatori, agli esperti del settore, la domenica invece si apriva al grande pubblico. Nell'edizione primaverile invece le due giornate saranno speculari, quindi in entrambi le giornate avremo animazione a 360 gradi, quindi oltre al cavallo, ai momenti legati al settore equestre, con spettacoli, con gare, una tappa nazionale di una gara di mountain trail. In più abbiamo le tipicità che metteranno a disposizione per chi vorrà dei nostri visitatori prodotti tipici, il polentone di Chiaserna alla Carbonara, conosciuto credo in tutta la provincia, e animazione musicale con concerti che si protrarranno, viste alla lunghezza delle giornate, fino alla serata, ad ottobre alle 5 e mezza, insomma c'è il buio, quindi si finisce, qui ci si può fermare alla festa anche fino alle 21 e oltre, non ci poniamo limiti. Cantiano è uno dei tre comuni new entry nel progetto itinerario della bellezza 2022, insieme a Cantiano, a Pecchio e San Lorenzo in campo, quindi 16 comuni che partecipano a questo progetto dell'itinerario della bellezza. Cantiano è nota da tanto tempo per questa razza autoctona, il cavallo del Catria, e bene fa l'amministrazione comunale da tanti anni a proporre una manifestazione legata alla valorizzazione del cavallo del Catria. L'edizione primaverile coincide anche con la discussione, la prossima settimana in Consiglio regionale, di un progetto di valorizzazione proprio del cavallo del Catria, c'è stata una proposta di legge presentata da un consigliere regionale, Giacomo Rossi, del nostro territorio, che verrà discussa la prossima settimana, quindi ci pare che questa iniziativa di promozione e valorizzazione del cavallo del Catria, insieme all'itinerario della bellezza e nello stesso periodo in cui viene discusso a livello regionale una proposta di legge proprio di valorizzazione di questa specie autoctona, sia un fatto molto importante.